Allora, benvenuti nella mappa di quella che diventerà Camanzone, benvenuti a Camanzone porca dio, ancora siamo al 20% circa, siamo io e... Per favore... Dolan, vabbè, e Raspo Dolan, saluta Raspo. Saluto? Saluta. Ok, ti saluta con animazione. Allora, questo video è un brevissimo video illustrativo di quello che abbiamo fatto fino ad ora, che è molto poco, però vabbè, l'abbiamo fatto facile. Cosa è questa cosa, Raspo? Ah, questo è l'essiccatoio, e vabbè, iniziamo l'entravedere, ci mette una volta, ci mette uno il tabacco, i propustellini, e mi sa che sono... Tu è spaventoso questo posto. Ecco, i pipistellini, li vedo. Dove sono i pipistrelli? Ho sentito ma non li vedo. Saliamo. Come? Ah, beh, giustamente. No, io invece faccio il più lo stile vecchio, salgo sulle scale. Oh yeah, I'm Spiderman. Sì. Non li vedo. Non li pipistrelli, spawnali un po', va, al massimo. Facerci, lo vedo, effettivamente. Vabbè, dovrebbe esserci qui. Alp. Vabbè, abbiamo un incudine, abbiamo tante bellissime cose, andiamo a vedere l'altro... D'altra cosa che ho detto. Ecco, l'ho visto il posto. Due, tre, quattro gli strellini, ecco quattro gli strellini. Chiudi che scappano via 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 via. Buttman, please. E niente, questo era l'assicatore. Qui abbiamo l'entrata sul... un bel testo a piazza chiaramente la piazzettina certo l'alberto ultimale tutto per bene questa reale durante il figlio alla famosa e questa è la caldaia venire dentro legna cazzo un po' i bulli completamente cazzo questo è il ceppo con la ascia in cui si taglia l'altra legna senza senso e questa è la caldaia la caldaia che riscaldano molto molto professionale la caldaia per l'issima la cosa che provoca di st accesso con la caldaia e scusate questa è la zona in cui giacomo e usa la ascia per uccidere altre persone 4.15 xd e poi di qua ma abbiamo al fatto fatto di mangiare un'attività sta illustrati 4.0 questo scuola c'è un'attività il titolo per l'estereghe dolar per il titolo la famiglia non fare che non avrei voluto che lo vedesse però vabbè allora questo è il vino per l'orgente della sedia qui sono le macchine per l'acqua perchè fa sicuramente a vuoto e quaggi sono le palle aggiungi segnalati in giù un'altra il mulino ok tu entra in casa adesso gli devo fare finta che tu non hai visto il cartello in realtà io qui ho scritto un cartello segreto arrasto piace il cazzo di negri sudati vabbè andiamo via se si vede ok comunque questo è il porto principale qui dove c'era da ultimare un studio delle lecce da messe nascoste per favore no le levi non le farei vedere questo e questo sarà lo studio si vengono entrambe c'è un po' di roba questa porta cose per l'escalo di sopra la gloriosa camminione questo è il lavoro guardate le porte delle fare vedere il salottino fatto con delle scale di quarzo che è un nuovo blocco tra l'altro il focolare con tutti gli oggetti sopra un quadro meraviglioso eeeh oh guarda c'è fatto anche la sua finestra che la sua in forma fa oh yeah benissimo questa televisione col dolby abbiamo il sistema audio che bomba e le televisioni anzi la televisione tutta fatta con l'ana nera ovviamente e qui abbiamo il cucinotto oh i mobili verdi tavolo tavolo bagoso fanno click this perchè sono delle pedane la cucina questa dovrebbe essere la la stuviglie la stuviglie lavandino vabbè qui troppo qualcosa di più figo adesso ci ingegneremo il forno mettiamo il gagno che cucina il forno il forno il forno e poi qui c'è un cactus e la pianta che c'è la visuale dall'esterno che sarà una meraviglia quando sarò vissimato bellente il tuschino non c'è cactus in realtà che c'è bello abbellisce l'ambiente more ma mangia la mia carota vabbè no me fa schifo entriamo nella nelle stanze qui abbiamo il bagno riprodotto con una notevole accuratezza quadri dunque che non ci sono ovviamente lavandino che un calderone fiorillini che non ci sono e il cesso i fiorillini ci sono si vabbè il bellissimo c'è si è in posto unitare guarda che cosa è brutto il cesso il raspo sgatta giustamente sul cesso e poi abbiamo la doccia non fa la doccia aspetta non fa la doccia Dolan why you shower così ho scummi ok comunque la civa attiva perché abbiamo l'acqua infinita non la spengere poi abbiamo le stanze prima stanza da letto forse quella un pochino più sproporzionata ma il massimo che si poteva fare con quello che abbiamo in esposizione esatto non fare più tanto questa è la camera matrimoniale per Sandro Mondaini e l'Avianello il gagno morirà in questo punto ne so sicuro eh ok non c'è niente di speciale andiamo via il baule che c'è anche veramente tra l'altro questa è la stanza da letto del raspo e del suo del suo partner di solito Diego di solito Diego che dorme qui perché dorme col suo capello immagino è molto brutto perciò una cosa perchè rompire però lo rimetto perchè l'abbè l'abbè mh rompere la finestra ecco vabbè wait 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 a sec non me ne fega un cazzo via la terza camera da letto quella dove dorme Giacomo in genere Riccardo che ci dò Riccardo dorme sul divano vabbè ci dorme ci dorme qui ah bisogna fare una cosa non sarebbe rio ok il video sta venendo tipo 25 giga non importa tranquilla non importa poi abbiamo il la manzarda manzardina fatto la manzardina hai fatto la manzardina subito la musica satanica e manzardina più ragnatele più cazzo tu pulisci mai ci voglia ragnatele vabbè cazzo vabbè vabbè questo alla fine del nostro gesto esplorativo la la casa verrà ampliata qui mettendo lo studio del ha bisogno di nascondere l'elevo in qualche modo ecco quello faremo il nuovo studio il babo del raspo poi l'altra casa qui con la di Ale e poi quella del zapallo, il selucuso e le cantine e la fagnameria e l'officina e il bozzo e tante altre belle cose tante belle cose quello si vediamo che poi qui dovremmo tantissimo pianare completamente questa zona metterci tutto la terra la terra quindi mi piace c'è un comando fra i quadrati eh si ci sono dei programmi no no il comando che puoi fare da qui vabbè poi vedremo a mettere anche la zona in cui il hanno tanti estereg il carbon estereg ha fatto le quest per il sud centesimo video che ancora ha riccardo non ha messo su youtube comunque dicevo da quegli estereg in giro per questo posto perchè ci abbiamo passato parecchio tempo tra di noi a cazzeggio a fare le feste e quindi sono parecchi cose che possano sequenziare le estere arfo e vabbè niente penso il giro effluativo sia finito è finito qua e vai e vai grazie